Euroregione News Laura Furci, le canzoni del medio Friuli viaggiano Pianista, cantante e compositrice, Laura Furci è stata vista in diverse occasioni a fiancare personaggi internazionali regalando brividi di vibranti emozioni raccontando la sua storia e il suo presente con le canzoni dell'ultimo CD, Think, con la tua cabessa I primi due dischi ne hanno regalato grandi soddisfazioni in tutte le città del mondo in cui li presentò New York, Berlino, Madrid, Padrigi, Cadiz, Pisa, Udine e l'ultimo CD fu registrato a New York e prodotto da Michael League Io l'ho incontrata prima della sua partenza per Madrid dove sta registrando un nuovo disco Intanto i tuoi video si possono vedere su internet Su YouTube, poi adesso ne faremo anche uno nuovo, proprio di Zecca che proietteremo per la prima volta il 21 di ottobre al Cormons Jazz and Wine of Peace Festival e lo registrerò con un altrettanto prestigiosissimo produttore La mia vita è un sogno per rispondere alla tua domanda perché ho deciso che voglio che sia così voglio che sia una ricerca, voglio essere me stessa E appena ritorno suono il 9 a Venezia, sì 9 ottobre a Venezia Poi il 21 appunto presenterò l'EP alla tenuta Villa Nova di Farra di Sonzo Il 22 all'Expo in città di Milano E poi chi vivrà vedrà Dal Medio Friuli per Euroregione News Marco Mascioli I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionews.eu